Il Grosseto, pur non brillando, aveva fatto quasi tutto bene fino al 35esimo minuto, passando anche in vantaggio con De Martis, ma non aveva fatto i conti con l'ennesima espulsione nel primo tempo e con un'altra giornata no del portiere Ander Cancelli. Il Montecatini così ringrazia e torna a casa con un 3-1 che di fatto apre una crisi di risultati su cui il neo-mister Marco Sanna dovrà essere molto bravo a lavorare nelle prossime settimane. Ma veniamo al campo. Al 24esimo Falconiere avanza palla al piede e calcia in porta. La palla passa al lato. Al 26esimo si inizia a capire che sarà una nuova giornata no per Cancelli. Punizione di Gambadori, testa di Ferrari. La palla si stampa sul palo. Al 28esimo Grifone in vantaggio. Sinigaglia conquista una punizione dal limite. Del tiro si incarica De Martis che sceglie la soluzione rasoterra. La barriera salta, il pallone passa e si infila alle spalle di Biggeri. Tutto sembra dunque mettersi in discesa per i biancorossi. E invece questo sarà l'ultimo momento positivo per il Grifone. Al 34esimo infatti il Montecatini reagisce e trova anche il gol ma la bandierina del Guardaline si alza sul tiro di Taddeucci. Al 36esimo il Grossetore sta in dieci uomini. Del Duca stende Taddeucci per l'arbitro e chiara occasione da gol e rimedia il rosso diretto. Punizione da cui viene la rete di Gambadori con la complicità di Cancelli che non trattiene il tiro dell'esperto ex giocatore della Pistoiese. Finisce così il primo tempo. La ripresa si apre con Clemente che al sesto con un'azione personale si libera e calcia in porta. Il pallone dà solo l'illusione della rete e finisce sull'esterno. Al 13esimo punizione di De Martis, Biggeri respinge con i pugni. Al 15esimo Sinigaglia va giù in area per l'arbitro e fallo in attacco. Al 17esimo Montecatini in vantaggio, punizione messa in area con Miglianti che svetta e di testa batte Cancelli. Al 18esimo la reazione bianco-rossa è con l'Izai di testa che non inquadra lo specchio. Al 31esimo cross di Gargiulo, testa di Sinigaglia e il portiere para. Al 32esimo punizione di Gambadori, Cancelli con affanno para in due tempi. Al 33esimo la giornata no del portiere under del Grosseto diventa decisamente negativa. Su una punizione dalla lunghissima distanza di Gambadori, l'estremo difensore resta a metà strada facendosi trovare impreparato e la rete vale il triste del Montecatini. Al 37esimo gli errori dell'estremo difensore Maremmano continuano, ma Piscopo grazie a Cancelli non inquadrando lo specchio. Finisce così la partita con il grifone che non riesce a reagire. Errori del portiere a parte, il nuovo mister dovrà analizzare molte situazioni. A partire dal perché una squadra continua a rimanere in 10 uomini dopo pochi minuti di gara. Regali che, contro formazioni ben organizzate, non puoi concedere e che alla fine paghi in maniera pesante.